ciao milici mi è arrivata quest'ottica della canon questa è la scatola dentro il packaging molto semplice quest'ottica davvero molto economica per essere di questa serie qua 300 euro per un'ottica fissa andiamo a vedere un attimino eccola qua apertura importante un 16 l'ottica la vede molto piccola il tappo sono andato a comprare un copriottivo che mi sa che mi arriva oggi e il tappo è 43 4,3 centimetri solamente andiamo a inserirla ok andiamo a vedere la caratteristica di questo comando switch che ci dice che così lo utilizzeremo questa che era per controllare il fuoco manuale se invece facciamo così la ghiera cambierà i parametri che abbiamo impostato dal menu quindi se vogliamo cambiare i tempi la ghiera farà modo di cambiare i tempi o cambierà le foto se lo vogliamo esposte sotto esposte o sennò caperà cambierà l'apertura del del diaframma o qualsiasi altro parametro abbiamo deciso in fase di programmazione di far sì che che possa cambiare la ghiera se andiamo accenderla vediamo che che apre molto diaframma un 16 è ottimo anche per bloggare vedete che se io tengo la macchina così distante da me metto io più distante ok questo è il mio braccio vedete che io all'interno dell'inquadratura ok ci sono io e tutto il panorama intorno è praticamente paragonabile a un'inquadratura che farebbe un un ago pro è chiaro che però la qualità che ci da questa non è quella dell'ago pro anche il microfono stesso è io vorrei tanti microfoni però è andando a guardare l'audio che fuoriesce da queste delle camere qua la r5 la r6 è veramente la qualità audio è ottima e delle di queste macchine fotografiche io direi che in molte situazioni dove non c'è vento l'audio delle microfono della r5 della r6 è tranquillamente un audio che potrebbe stare a livello dei migliori cellulari nei migliori cellulari ad esempio il mio cellulare sto usando non c'è bisogno di utilizzare un microfono perché l'audio viene già abbastanza buono per quello che è blogging quindi non c'è bisogno di un microfono se non stiamo parlando di situazioni ventose o particolarmente strani tipo che ne so eventi fieristici concerti dove c'è l'audio che giunge da tutte quante le parti quindi una situazione di del 90 per cento delle situazioni l'audio del proveniente dal cellulare può andare bene e anche l'audio del della macchina fotografica può andare bene quindi noi abbiamo una macchina che è molto leggera con un'ottica del genere che molto leggera potremmo tranquillamente utilizzarla per fare il blog ed avere una qualità video nettamente superiore a quella di un cellulare allora per quello che riguarda la messa a fuoco adesso c'è la messa a fuoco che è qua su di me adesso vi faccio vedere e sta facendo un rilevamento volto sta funzionando abbastanza bene in questo caso con rilevamento volto però devo dire che rispetto a una gopro o rispetto a un cellulare la messa a fuoco se c'è delle degli oggetti incetti potresti trovare che la messa a fuoco comincia a muoversi adesso è messa si potrebbe mettersi a far rumore avanti e dietro cosa che col con a gopro il cellulare non essendoci nessuna parte meccanica che si muove non questo problema questo problema non c'è è un piccolo una piccola vedete adesso ci metto qualcosa che dà fastidio sentire il rumore della messa a fuoco che fa avanti e dietro questa cosa qua sicuramente ecco potrebbe fare rumore potrebbe fare incertezza nella ripresa sicuramente questa cosa qua col cellulare con la gopro o con dji insomma tutte queste che hanno un sensore microscopico senza parte di che sono in movimento su questa cosa non non su quelle su queste altre cose non avremmo questo tipo di problema della parte meccanica che può essere incerta sulla messa a fuoco però il risultato che otteniamo non ricordiamoci che non è lo stesso la qualità video di una ripresa fatta da quest'ottica qua sarà sicuramente totalmente diversa rispetto a una gopro e soprattutto ricordiamoci un sensore grande quando avremo situazioni di basse luci allora a quel punto proprio non ci sarà assolutamente paragone quindi non potremo fare vlogging mentre stiamo facendo un aperitivo una cena al lume di candela con una qualità di immagine molto buona lo stesso lo stesso risultato non potremo certo averlo utilizzando una osmo pocket o un o una gopro un cellulare e un altro motivo per cui potrebbe essere molto gettonata questa quest'ottica qua è per chi vuole utilizzare la nostra mirrorless su uno stabilizzatore tipo un ronin allora eccolo qua allora chi usa tipo un ronin del del genere questi stabilizzatori qua no è molto importante è molto importante il peso e in questo caso l'ottica fissa o tra grande angolare potrebbe essere un'ottica una buona soluzione per per poter per poter essere montata sullo stabilizzatore anzi io qui sopra vedete c'ho l'aggancio ho sempre montato la gh4 una vecchia gh4 con un'ottica che non mai venduto perché ho detto vabbè in alcune situazioni e il fatto che sia un po' più leggera delle altre potrebbe risultarmi comune ecco non ho mai provato sarebbe il caso di fare una prova con questa penso che a sto punto la canon r6 potrebbe potrebbe andarmi bene perché con le ottiche che avevo prima che sono tutte ottiche un po più pesanti non 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 poteva funzionare invece e invece per chi usa un stabilizzatore potrebbe essere una buona soluzione il prezzo pagato su amazon è stato di mi sembra poco più di 300 euro che per essere un'ottica che tutto sommato costa poco rispetto a le ottiche quelle da 3 mila euro tutto sommato però ha delle sue caratteristiche uniche quindi ti fa un lavoro che che le ottiche quelle la più pesanti non riescono a fatti cioè il peso e l'ingombro realmente rendono la macchina utilizzabile in certi contesti dove le altre non sono utilizzabili con un prezzo sicuramente che che è alla portata di tutti quelli che hanno comprato un corpo macchina del genere che ha comprato corpo macchina 4000 euro e gli serve un'ottica di di questo tipo qua non è il non è i 300 euro che che la rendono un sogno impossibile devo dire sinceramente l'ho comprata senza sapere se l'avrei utilizzata in quale contesto l'avrei utilizzata ma adesso che la sto provando penso che penso che potrebbe essere il pretesto per fare dei blog in cui già so che devo fare dei blog usando usando questa macchina qua a posto del telefono sì mi è piaciuto mi è piaciuto molto provarla va bene e senza microfono in maniera tale che la macchina rimane bella leggera se so che non saranno contesti e rumorosi o ventosi la macchina la utilizzerò in modo proprio molto molto leggero così un saluto ciao ciao